Juve avvelenata contro Mourinho, non fa sentenze. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. In panchina al posto dell'influente Allegri nella partita persa dalla Juve in Lazio, il deputato Landucci ha risposto a distanza alla freccia lanciata contro i bianconeri dall'allenatore di Roma, cosa è successo? Torino, non fa giudizi. Così Marco Landucci, assistente di Massimiliano Allegri che ha guidato la Juve nella partita persa in Lazio, ha risposto indirettamente a José Mourinho che dopo il successo della sua Roma sul campo torinese ha colpito i bianconeri. In panchina al posto dell'influente Allegri nella partita persa dalla Juve in Lazio, il deputato Landucci ha risposto a distanza alla freccia lanciata contro i bianconeri dall'allenatore di Roma, cosa è successo? La redazione. Domenica 9 aprile 2023, 11 e 6. Torino, non fa giudizi. Così Marco Landucci, assistente di Massimiliano Allegri che ha guidato la Juve nella partita persa in Lazio, ha risposto indirettamente a José Mourinho che dopo il successo della sua Roma sul campo torinese ha colpito i bianconeri. Cosa è successo? Sei sicuro di meno 15 alla Juve? Siamo in Italia. Ha risposto il tecnico portoghese in conferenza stampa a cui ha sottolineato il terzo posto in solitaria dopo la vittoria su Juric di Torino. Parole che ovviamente non vengono apprezzate in casa alla Juventus, non posso rispondere a Mourinho perché è un grande allenatore e sono stato un buon portiere, secondo alcuni non così bravo. Ma non giudicate, giusto? Aspetteremo fino al 19 aprile, quando lo Sport Guarantè College deciderà sul ricorso della Juventus contro il rigore, NDR. Abbiamo 59 punti in campo, 61 contando i due della Salernitana, il riferimento è all'errore del varascapito dei bianconeri nella partita contro la campagna, NDR. Accettiamo le decisioni di arbitrato come non tutti, accettare il verdetto del campo e rì. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.